Due rotatori e cinque uscite per ciascuna, sei mesi di lavoro, 1.143.707,50 euro per realizzarlo. Sono i numeri del progetto del nuovo svincolo autostradale, presentato in conferenza stampa dal sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, dal progettista, nonché direttore dei lavori, professor Giovanni Tesoriere, e dal gruppo Nofrio Lisuzzo. La domanda che interessa di più la cittadinanza, oltre al valore in sé dell'opera che decongestionerà il 60% del traffico della zona è che tipo di impatto sul traffico avranno i lavori? A rispondere il RUP, cioè il responsabile unico del procedimento, il geometra Lisuzzo, che ha spiegato che la maggior parte dei lavori riguardano nuove opere che verranno realizzate non intaccando la circolazione attuale dal momento che si tratta di strade nuove. I problemi potranno verificarsi soltanto quando si dovrà effettuare l'aggancio con l'autostrada in direzione Palermo-Catania. Tali disagi potranno durare comunque non oltre la settimana, prevedendo solo per quel periodo l'uscita a Casteldaccia per chi proviene da Palermo. Il progetto, in alcune parti rivisto su indicazioni dell'ANAS, risale al 2005 ed è stato realizzato con fondi comunali grazie all'approvazione del bilancio previsionale del 2018. Sono seguiti anni di studi geologici, contatti con l'ANAS, soprintendenza, studi propedeutici che hanno dato vita al nuovo progetto, che prevede in sostanza che chi proviene da Catania non dovrà più percorrere l'attuale uscita, zona ex IPAB, ma uscirà sulla tangenziale presso la quale verrà creato un adeguato nuovo accesso, il quale taglierà contrada a ranteria. Tutto ciò produrrà anche un effetto di riqualificazione della zona periferica ed un maggior controllo di tutta l'area, spesso soggetta ad abbandoni indiscriminati di rifiuti. Tutti i lavori preparatori non daranno dunque intralcio al traffico. Le due rotatorie saranno una a Monte e una a Valle dell'Autostrada, come spiega il progettista e direttore dei lavori, professore Giovanni Tesoriere. La vera novità, oltre alle rotatorie, sarà che si eviteranno i punti di conflitto in entrata e in uscita che si verificano oggi, proprio grazie alle due rotatorie, eliminando le intersezioni tra flussi di traffico. In questo modo si intercettano e anticipano i flussi di traffico, riducendo il numero dei veicoli che confluiscono in un unico punto. In sostanza si anticiperà l'ingresso in uscita a direzione Catania-Palermo, grazie ad una mobilità importante che è la tangenziale e grazie ad una nuova viabilità di collegamento, mentre in direzione Palermo-Catania, con la Maremonti, non appena sarà possibile realizzare il sottopasso, si migliorerà anche l'ingresso.